Una minaccia di morte per strada sarebbe stato il fattore scatenante degli atti intimidatori di febbraio e maggio, postene essere rispettivamente a Prato la Pelennia e a Raiano, da padre e figlio di 46 e 20 anni, tratti in arresto nella giornata di ieri al termine di una battente attività d'indagine portare avanti dal nucleo operativo dei carabinieri. All'indomani dell'operazione che ha assicurato la giustizia e presunti autori degli spari sui portoni delle abitazioni, emergono ulteriori particolari sui futili motivi e la base dell'intimidazione. Il ventenne infatti è stato citato in giudizio per la minaccia di morte perpetrata nei confronti di un giovanissimo familiare della vittima che ha subito intimidazione. L'episodio risale a dicembre 2021 quando sul territorio comunale di Pratola il ragazzo sarebbe stato fermato per strada dall'allora diciottenne che avrebbe tentato di aggredirlo fino a minacciarlo a grido ritaglio la gora ti butto nel burrone. Ne è scaturita una citazione a giudizio per la quale nei prossimi giorni l'avvocato del ventenne avrebbe voluto chiedere la messa alla prova. La circostanza dell'arresto ha evidentemente aggravato la posizione del giovane che ora si trova ai domiciliari assieme al padre. Per entrambi il giudice per le indagini preliminari Alessandra De Marco fisserà a breve l'interrogatorio di garanzia. Da quell'episodio scatenante sarebbero succeduti una serie di screzi fino agli spari sulle abitazioni di via 24 maggio che risalgono allo scorso 4 febbraio. Il bis è andato in scena il 20 maggio a Raiano stesso modus operandi con gli spari in fotocopia che avevano centrato la porta di un'abitazione di una persona legata indirettamente alla vicenda di Pratola. La prova del 9 è arrivata con la comparazione dei bossoli svolta dal laboratorio del RIS dopo che i carabinieri la scorsa estate avevano arrestato il 46enne con la pistola calibro 7,65. Questi indizi sommati a intercettazioni telefoniche ambientali hanno portato il giudice ad accogliere la richiesta della misura cautelare dei domiciliari per i due indagati entrambi con un profilo di pericolosità sociale come emerge dall'ordinanza. Le indagini intanto non si fermano anche perché l'altra notte un'auto è stata incendiata nello stesso quartiere pratolano. Il sospetto dell'inquirente è che gli episodi siano collegati.